Il belga Peter Prat è stato designato capo economista della Banca Centrale Europea al posto di Jürgen Stark che si era dimesso lo scorso settembre. 63 anni, Prat è membro del comitato direttivo della BCE da giugno. La posizione da capo economista era contesa da Francia e Germania che hanno appena insediato Benoit Corée come responsabile delle operazioni di mercato e Jörg Asmussen alle relazioni internazionali.